Allora, cominciamo subito con le menzioni speciali che vengono assegnate a dei costumi particolari. La prima menzione speciale è una menzione titolata Anni Ottanta o Nostalgia. Potete già forse capire di chi stiamo parlando. La menzione Anni Ottanta si divide in due, perché se noi premiamo Actarus non possiamo non premiare Goldrake! E allora sul palco Actarus e Goldrake per ricevere la menzione speciale Anni Ottanta! Ci vorrebbe la base con Goldrake, magari, cioè non vorrei esagerare con le richieste, ma la gradiremmo. Eccolo, Goldrake! Actarus! Ed ecco anche Goldrake! Eccolo, eccolo! Signore, un incontro mitico! Goldrake e Actarus! Menzione speciale Anni Ottanta per loro! Il vostro applauso! E ricevete anche voi chiaramente la medaglia a ricordo di questo evento. Faceva così la canzone di Goldrake? Sì, sì, me la ricordo. E' un incontro storico! Grazie, grazie! Grazie Actarus, grazie Goldrake! Ma andiamo avanti con la prossima menzione speciale. Questa menzione sarà assegnata proprio dai ragazzi di Palermo in Cosplay che invito ad avere...